Con questo ritorno alla normalità, questo pseudo ritorno alla normalità dovuto al fatto che i contagi stanno calando, che stiamo riuscendo fortunatamente, grazie a Dio a gestire meglio questo virus, cosa sta succedendo? Sta succedendo che molti di voi stanno avendo difficoltà ad allenarsi, vergogna, brutte persone, no, non è vero, è normale, perché ovviamente un conto è quando eravamo in piena pandemia, zona rossa, chiusi in casa e non avevate niente altro da fare che stare a casa, fare il vostro smart working e poi occupare in qualche modo il tempo. Adesso che fortunatamente stiamo tornando a un minimo di socialità, stiamo tornando a una vita più normale, più consueta e che i ritmi del lavoro incalzano, allenarsi sta diventando più difficile, soprattutto per chi si allenava magari a distanza perché non aveva la possibilità di andare in un dojo. Io per primo ho perso alcuni ragazzi nella mia accademia online proprio perché non riescono più a incastrare i vari impegni. E allora oggi il tuo fantastico Eugenio ha pensato proprio a te e in questa puntata ti dedicherà il suo tempo per raccontarti, per svelarti sette trucchetti, sette? Sono sette, sì, stavolta li ho contati giusti, non come l'ultima volta che ho fatto una roba numerata. Sette trucchetti per riuscire ad allenarti, per riuscire ad organizzarti bene e riuscire ad allenarti nonostante gli impegni, nonostante i trantran della vita quotidiana, nonostante insomma tutto quello che c'è da fare. E mi raccomando, sempre il solito discorso, non è la soluzione a ogni male, non è una pillola magica, ok? Sono sette strategie molto utili che possono fare molto, però l'impegno ce lo devi mettere tu. Eugenio Credidio presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. E' benvenuto a questa nuova puntata di Karatepedia, benvenuto da me, il conduttore abituale di questo fantastico show, e dal maestro Miyagi. Buonasera maestro, spero che stia bene. Perfetto, è pronto a partire? Hi. Ok, allora ragazzi, in questa puntata di questo fantastico show dedicato alla storia e ai segreti del karate, parliamo di strategie per riuscire ad allenarsi anche quando si riprende a vivere normalmente, ok? O più o meno normalmente. Ed è un vero peccato se in questo periodo siete riusciti a praticare, avete creato una routine, e poi adesso, perché si torna al tran tran della normalità, perdete tutto. È veramente una cosa triste, e è quasi una perdita di tempo rispetto a quello che avete fatto. Cioè, nel senso, è quasi come se aveste perso del tempo, avete dedicato energia, avete dedicato tempo a una cosa tanto bella come l'allenamento, e adesso, bram, arriva la quotidianità e ci frega. E questo non deve succedere anche perché sia a me che al maestro Miyagi, ovviamente, dispiacerebbe moltissimo. Mi darebbe un dispiacere. Per cui, non fate rattristare il maestro Miyagi. No, 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 no. Non fate rattristare me. No, 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 no. Grazie per il assist, maestro. E cercate di allenarvi comunque. Ora, mettiamo le mani avanti, ok? Mettiamo le mani avanti così non prendiamo una facciata intera. È normale, ok? Esattamente come quando ci sono delle difficoltà dovute dalla vita quotidiana nell'allenarsi perché ci manca un po' quello sprone, ok? È normale che nel momento in cui si cambia una routine, è normale che nel momento in cui si torni a una vita più piena, sia difficile allenarsi. Esatto. È normale perché ci facciamo travolgere da tutto quello che succede, non abbiamo tempo, siamo stanchi, dobbiamo rimetterci un po' in quadro e perdiamo questa capacità, questa capacità di ritagliarci del tempo e di allenarci. E sappiate che succede anche in presenza, non sapete quante volte, esami di università, piuttosto che impegni di lavoro, piuttosto che periodi di compiti in classe, piuttosto che, piuttosto che, piuttosto che i ragazzi non vengono ad allenarsi anche per un mese alle volte perdendo un sacco, facendo poi fatica a ritornare nei ranghi e alle volte poi abbandonando per il resto della stagione. Mi darebbe un dispiacere. Eh, guardi, non lo dica a me perché è un sacco di lavoro buttato via. Quindi, se succede in presenza, in palestra, figuriamoci nel momento in cui voi vi allenate da soli a casa e magari lo state facendo senza un programma, senza una progettualità, senza un qualcosa che vi permetta di andare avanti. Ok? Per cui, prima cosa, non sentitevi in colpa, mi raccomando, ok? Non sentitevi in colpa perché, ripeto, capita, siamo umani, siamo umani, noi stiamo tenendo forte la barra del nostro timone, però qualche volta arriva la tempesta e questa barra ci scivola fra, ci scivola fra dalle mani e non è facile riuscire a riprendere il nostro timone e a rimetterci in quadro, ok? È normale non sentirti in colpa, mi raccomando. Detto questo, però, adesso passiamo a sette piccole strategie, sette escamotage, che sono io il primo che adopera per cercare di riuscire a organizzarsi, per cercare di riuscire a incastrare l'allenamento e per renderlo produttivo, ok? Perché, mi raccomando, la cosa importante è non mollare il colpo, è cercare comunque di fare il possibile in base al nostro tempo, in base alle nostre possibilità, per allenarci almeno quella volta alla settimana. Non è tantissimo, ma almeno teniamo questa buona abitudine, è importante. Quindi, 3, 2, 1 e iniziamo con le nostre sette strategie. Viaghi a buone speranze per te. Perfetto, maestro vedrà che spacco tutto oggi. Allora, prima cosa, prima cosa importantissima, non rinunciate all'allenamento. No! Non fatelo! Non si fa, ok? E te lo dico per esperienza personale. Mamma mia, quando gesticolo così sembra veramente una caricatura dei cartoni animati dell'italiano. Non fatelo, e ve lo dico per esperienza personale. Perché? Perché l'allenamento migliora la tua qualità di vita. È una valvola di sfogo, ok? È una valvola di sfogo dallo stress. Ti permette di scaricare, di rigenerarti. Ti permette di mettere in moto tutto quello che è il tuo organismo. E questo ha degli effetti benefici su tutta la tua vita a 360 gradi. Migliora la tua qualità di vita, ti fa dormire meglio, ti fa riposare meglio. Non solo dormire meglio, ma proprio ti fa rigenerare meglio. Migliora i rapporti che hai con le altre persone. Perché probabilmente tu riesci a mollare un po' giù lo stress, il nervoso. E quindi ti interfacci meglio con i tuoi familiari, con i tuoi amici, con la tua moglie, con la tua fidanzata, con il tuo cane. Con chi che sia. E ovviamente in questo c'è la gestione dello stress. Perché appunto, come ti dicevo prima, ti scarichi e quindi affronti tutto più serenamente. Ok? Anche le più grandi merde astrali riesci ad affrontarle serenamente. Per cui, mi raccomando, non dimenticarti di allenarti. Sempre, sempre, sempre. Non rinunciare mai all'allenamento. Dai la cera, togli la cera. Sempre. Io, in un periodo in università, avevo smesso di allenarmi praticamente perché ero oberato. Ero veramente carico con gli esami. Mi avevo fatto un paio di cagate stratosferiche e dovevo recuperare. Per cui, avevo rinunciato ad allenarmi. E ti posso garantire che ne sentivo la mancanza. Ma ne ho sentito, me ne sono reso conto. Sai quando? Non quando non mi allenavo. Quando ho ripreso ad allenarmi. Perché? Perché quando mi sono obbligato a dirmi, no, due volte alla settimana, Eugenio, tu ti alleni, porca la miseria. Non è possibile che tu non possa dedicare due ore alla settimana del tuo tempo per allenarti. Mi sono reso conto come questa pratica abbia migliorato esponenzialmente tutto nella mia vita. Tutto, ok? Non perché era il karate per forza di cose, ma perché scaricavo lo stress. Mi vedevo con altre persone. Io stavo chiuso in biblioteca, studiavo, 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 studiavo. Avevo il mio mood, anzi il mio mode, avercela col mondo, ok? Quindi ero lì rintanato, il remita mode, rintanato e non parlavo con nessuno e via dicendo. Per cui mi permetteva di vedermi con delle persone, di interfacciarmi con delle persone, di parlare e pensare ad altro che non fosse lo studio e mi permetteva di scaricare lo stress mentale e fisico. E ti posso garantire che se non fosse stato perché ho ripreso ad allenarmi, io non so mica se sarei riuscito a laurearmi a fare quello che ho fatto in un anno. Quindi mi raccomando non mollare l'allenamento. Se fosse una settimana, ok? Ma non mollarlo in toto. No, non lo devi fare. Mi raccomando. No, 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 no. Esatto. Mi raccomando. Non mollare l'allenamento. Piuttosto riducilo, ma non mollarlo. Quindi prima cosa, deve essere una cosa che porti avanti. Piuttosto nel weekend, ok? Non esiste che tu non possa dedicare un'ora a te stesso, un'ora ad allenarti, ok? Non esiste. Se è perché i tuoi amici ti rompono le balle, hai dei problemi con la famiglia, non è possibile mollare la famiglia per un'ora, o la fidanzata, o che so io, beh, forse allora dovresti rivedere qualche rapporto. Perché non esiste che nell'arco di una settimana, un'ora, tu non la possa dedicare a te stesso e ad allenarti, ovviamente, se è l'allenamento quello che ti fa piacere fare. Quindi cosa numero uno. Cosa numero due. Fai come se seguissi un corso. E questo lo sto applicando io, ad esempio, in questo periodo. Io mi sono sempre allenato in base a quello che dovevo fare, segnavo le cose che dovevo fare e poi decidevo quando allenarmi. No, 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 no. Ha ragione, maestro. Non è una pratica produttiva. Perché? Perché l'allenamento funziona bene quando crei una routine e quindi quando il tuo cervello, il tuo corpo sa che tu quel giorno, quell'ora, dedichi quel tempo a quella data cosa. Si predispone proprio, ok? Ti permette proprio di... Si predispone. Si predispone sia a livello fisico che a livello mentale. Quindi, in base ai tuoi impegni di questo periodo, scegliti uno o due o tre o quattro, va bene? In base, ovviamente, alle tue necessità. Scegliti un giorno o due fissi. Fissi. Cascasse il mondo. Devono essere fissi. Mi allontano un po' dal microfono perché sennò sembro sorbisss. Dicevo, uno o due giorni fissi e uno o due orari fissi, come se andassi a un corso. Quando poi tu sono le sei del mattino, va bene. Sono le dieci di sera, va bene. Non importa. Scegliti uno o due giorni fissi, esattamente come se facessi un corso. Non prendere impegni per quell'ora. Non ci sei per nessuno per quell'ora. Ok? Ti devi lasciare libero e sai che il martedì e il giovedì, dalle 7 alle 8 di sera, tu ti alleni. Punto. Punto. Non vai a fare la spesa, non lavi casa, non lavi il cane, non lavi niente. Ok? Punto. Ti concentri solo ed esclusivamente su quella cosa lì. È un problema di atteggiamento. Vero, maestro. Spesso è un problema di atteggiamento. Perché? Perché l'allenamento è sempre quella cosa che massi tanto la possiamo fare. Un paio di ciuffoli! Se l'allenamento è un regalo che fai a te stesso. In quel momento, quando ti alleni, non te ne rendi bene conto, te ne rendi conto a priori, ma è un regalo che fai a te stesso. E quindi devi prenderti quel tempo, dedicarlo. E terzo passaggio, fare dei sacrifici, se fosse necessario, per allenarti. Attento, attento. Noi associamo sacrificio a una cosa che è terribile. Oh, il sacrificio! Ma sacrificare, fare un sacrificio, significa rendere sacro. Ok? Rendere qualcosa sacro. E questo vuol dire che tu rendi quei due giorni, quelle due ore alla settimana, sacre. che nessuno te le può toccare. Poi, ovvio, oi, raga, cioè, con intelligenza, se c'è il problema, se quella settimana lavorativa è particolarmente complicata, se, 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 ovviamente andrai a modulare, piuttosto recuperi l'allenamento che non sei riuscito a fare. Però, fai un sacrificio. Rendi quell'ora sacra. Nulla ti può distogliere dal fatto che tu, a quell'ora, ti devi allenare. E, mi raccomando, mi raccomando, stacca tutte le distrazioni. Ok? Niente telefono, niente computer, niente musica. Allenati per quell'ora. Stacca con il mondo, come diciamo sempre. Adesso è arrivato il momento della quarta strategia, quarto barbatrucco. Che è, prepara la borsa il giorno prima. Mi raccomando, prepara la borsa il giorno prima. Lo zaino. Ti alleni in casa? Mettiti la roba lì in un punto, non importa, ma preparatela il giorno prima. Perché almeno non hai scuse da raccontarti, non puoi dirti delle palle. È già tutto pronto. Tu devi semplicemente staccare, prendere la borsa e andare ad allenarti. Ok? O staccare, andare nella tua stanzina, cambiarti e allenarti. Non trovare niente, non dare alle scuse degli appigli. Mi raccomando, perché altrimenti sono dolori. Perché altrimenti sicuramente troverai un modo per non allenarti. Perché comunque l'allenarsi, soprattutto se non è veramente un'abitudine consolidata da anni, è comunque uno sforzo, richiede uno sforzo di volontà. Perché? Ma perché né al corpo né alla testa piace far fatica. Ok? Ma perché cavolo devi allenarti, piuttosto che startene sul divano, berti una birretta e guardarti un film o una serie tv. Quindi, mi raccomando, trova il modo di non creare degli appigli, di non creare delle scuse a cui ti puoi agganciare e che possono tornare utili alla tua psiche o al tuo corpo per fregarti e non farti allenare. Poi, strategia numero 5. Molto importante. E anche questa l'ho sperimentata sulla mia pelle in quest'ultimo mese. Preparati l'allenamento almeno il giorno prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che Eugenio cosa faceva? Il giorno stesso andava, si scriveva quello che doveva fare per allenarsi e andava in palestra ad allenarsi. indipendentemente che fosse karate o indipendentemente che fosse preparazione fisica. Ok? E quindi ti metti lì, fermi tutto, ti dirigi l'allenamento, vai in palestra, ti cambi, leggi quello che devi fare. Troppa roba a cui pensare e diventano scuse, scuse, scuse a cui appigliarsi. Perché? Eh, ma mi devo allenare, ma non so cosa fare. non so quello che devo fare. Allora mi faccio il programma. Ah, mi faccio il programma. Poi magari mentre mi faccio il programma inizio a cazzeggiare perché devo usare magari il computer per farmi il programma. Non lo so, eh, sto supponendo. O forse sono cose che sono realmente successe a Eugenio. Eh, rida, rida, guardi. Non so quante volte, maestro, che ero lì, cercavo di fare le mie cose e non ci riuscivo. Perché? Perché avevo troppe cose a cui pensare, fatica, carico cognitivo, poca voglia perché magari ero stanco o altro e quindi l'allenamento non andava a buon fine o non andava proprio come avrei voluto. Quindi, cosa ho fatto stavolta? Mi sono fatto il trabocchetto. Il mese prima mi sono preparato un programma di allenamento per tutto il mese. Tiè, Eugenio, così io cosa faccio? Oggi mi devo allenare. Ok, perfetto. Prendo baracca e burattini, vado in palestra, vado al dojo perché posso, ho questa fortuna qua, ma se no andrei in una camera, apro il mio programma di allenamento e, boh, leggo cosa devo fare e lo faccio. Boh, fine, fatto. Non ho niente su cui appigliarmi. E a livello, diciamo, di... proprio di testa è molto più semplice da gestire. Adesso stai usando tua testa non solamente per prendere botte. Maestro, però, anche lei, se lo sapeva, eh, anziché venire qui al podcast e a tirarmi le balle, poteva mandarmi, non so, un messaggino. Come mi ha mandato il microfono, mi mandava un messaggino con qualche strategia, non che devo imparare tutto da solo. Eh, lei ride. Io dico, tu fai. Sì, ma se lei non dice niente, io non faccio niente. Vabbè, lasciamolo. Un attimo lì a crogiolarsi nelle sue battute. Quindi, preparati tutto, ok? Preparati tutto, creati il tuo programma di allenamento in maniera tale che tu sappia già nel momento in cui vai ad allenarti cosa devi fare. Boh, fine, game over. Niente balle, nessuna, scusa. Non puoi, eh, non puoi fregarti in alcun modo. Strategia numero sei. Può sembrare una boiata. Può sembrare una cosa un po' new age, un po' così da life coach, ma invece da ottimi risultati, perché ti permette di tenere sta barra del timone, vedere dove stai andando e se fosse cercare di rimetterti subito sulla giusta rotta. Ed è, tieni un diario. Tieni un diario di allenamento dove non solo ti scrivi quello che devi fare, perché no? Potrebbe essere proprio il diario in cui tu ti scrivi il tuo programma di allenamento, ma in cui alla fine di ogni allenamento tu ti scrivi qualcosina, tipo quello che hai imparato, quello che hai migliorato, quello che ti sei reso conto di dover migliorare. O semplicemente le sensazioni, come è andato l'allenamento, se era il caso quel giorno di allenarti oppure no, se devi migliorare il tuo programma di allenamento o la tua strategia, o se magari quel giorno che hai deciso per allenarti non va bene perché hai troppa roba da fare. Insomma, fai un po' quel cacchio che vuoi, ma tieni un diario. Questo è uno dei... Aiuto, ok, scusate, abbiamo spento il microfono. Questo è uno dei consigli migliori che mi sento di darti. Io ovviamente il mio diarietto ce l'ho e molto probabilmente prima o poi diventerà frutto, verrà pubblicato tramite una sorta di newsletter, perché credo che ci possano essere degli spunti interessanti, ma te lo dirò quando lo farò. tieni un diario perché veramente ti può essere di grande aiuto. E infine, ultima... ultima strategia, ultimo trucco su cui ti consiglio di lavorare e che è molto importante è abbi un obiettivo. Scegli un obiettivo e lavora su quell'obiettivo perché l'allenamento, senza obiettivo, è movimento fine a se stesso e non ti dà una motivazione sufficiente per andare tutti i giorni in palestra ad allenarti o andare quelle due volte alla settimana ad allenarti anche quando hai problemi, sei stanco, hai le palle che ti girano e via dicendo. Per cui, mi raccomando, scegli un obiettivo, ok, e cerca di portarlo avanti. Un obiettivo che può essere tecnico, un obiettivo che può essere di fitness, diciamo, quindi di efficienza fisica, un obiettivo, cosa ne so, correre 10 km, che ne so, fare 50 piegamenti di fila, riuscire a far bene con la tecnica, riuscire a far bene quel kata, non importa, scegli un obiettivo e cerca di portarlo a termine. E una volta che avrai scelto quell'obiettivo e che l'avrai raggiunto, scegli un altro e via via vai avanti per obiettivi, perché se no, se non hai una motivazione, ok, cioè se non hai un motivo valido per allenarti e ti posso garantire che nella maggior parte dei casi non è il mi alleno perché così sto meglio, perché quando poi sei lì alle corde del ring, sei stanco, sei strassato, dici ma che cazzo me lo faccio a una macchina, ma io sto sul divano, cioè è normale, scegli un obiettivo profondo, un obiettivo che ti dia soddisfazione e cerca di portarlo avanti e scrivine sul tuo diario, ok? BANZAI! Esatto, perché l'allenamento va affrontato così, BANZAI! Grandissimo maestro. Va bene? Quindi ricapitoliamo un attimo rapidamente prima di salutarci queste sette strategie, prima cosa, primo trucco è non rinunciare, cascassi al mondo, tu ti devi allenare, scegli come, scegli quando, ma non rinunciare. Numero due, fai come se seguissi un corso, per cui scegli un giorno, due giorni, tre giorni, in base alla tua possibilità e degli orari fissi che cascasse il mondo, sono tuoi e tuoi soltanto e li usi per allenarti. Numero tre, rendi quel tempo sacro, rendi quel tempo sacro, non ci devono essere distrazioni e devi rinunciare, piuttosto ad altre cose non importa, ma quelle sono quelle ore che dedichi a te stesso, al tuo miglioramento. Numero quattro, preparati la borsa il giorno prima. Numero cinque, preparati l'allenamento il giorno prima o anche il mese prima. Se per caso tu fossi un iscritto alla mia Accademia Online, guardati i video se ce la fai il giorno prima, ok? O il mese prima e poi decidi quello da fare, non andare ad allenarti direttamente e fai partire i video. È molto meglio avere un'infarinatura, così saprai già quello che devi fare. Numero sei, tieni un diario, ok? Tieni un diario in maniera tale da segnarti cosa sta succedendo, segnare quello che sta accadendo, segnare come vanno le cose. Numero sette, scegli un obiettivo. Scegli un obiettivo e portalo avanti. Cosa ne dice maestro? Così dovremmo riuscire ad allenarci? Mi aghi ha buone speranze per te. Anche Eugenio ha buone speranze per te. E direi che per questa puntata per oggi è tutto. Dal maestro Miyagi, Sayonara. E da Eugenio, alla prossima, arrivederci. Come al solito ti auguro una buona pratica e ti ricordo che qui in descrizione al video o in descrizione al podcast trovi tutti i link utili, dal materiale gratuito al gruppo Telegram, dove pubblico ogni giorno il mio podcast sulla vita dell'insegnante, ai corsi, a varie ed eventuali. Noi ci vediamo, o ci sentiamo, la prossima settimana con un'altra puntata di Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Io ti mando un abbraccio e niente. Alla prossima. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com